C'è un nuovo capitolo nella scomparsa di Giuseppe Spampinato, carpentiere, di Francesco Grasso, camionista, tutti e due di Asci Catena, svaniti nel nulla febbraio dello scorso anno. Sarebbero stati uccisi all'interno di questo B&B di Pennisi, una frazione di Asci Reale. Al momento non si conosce il motivo, ma i carabinieri un mese fa hanno fermato il proprietario del Bed & Breakfast, Rosario Grasso, ancora in carcere con l'accusa di concorso in omicidio. L'uomo messo alle strette avrebbe ammesso agli investigatori della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania il particolare legato al delitto che sarebbe stato compiuto all'interno della sua proprietà. Grasso avrebbe anche detto di non conoscere gli autori dell'omicidio, che dopo aver ultimato la duplice eliminazione avrebbero portato via i corpi senza vita. Sono stati i carabinieri di Catania a localizzare il B&B ricostruendo una fitta rete di contatti telefonici. I cellulari di Giuseppe Spampinato, responsabili e riesci catena del gruppo mafioso dei Laudani, e Francesco Grasso, nipote di un bosser gastolano legato allo stesso clan, hanno segnato per l'ultima volta una cella telefonica di Pennisi molto vicina al Bed & Breakfast, Achis. La conoscenza dei due con il proprietario ha portato gli investigatori dei carabinieri a compiere le ricerche dettagliate nella proprietà. Sono state successivamente le investigazioni dei carabinieri del RIS, grazie a Luminol, un reagente utilizzato per le ricerche ematiche, a far scoprire una grandissima quantità di sangue nel terreno. Da qui la decisione di fermare con l'accusa di concorso in omicidio. Durante l'udienza di Convai dall'ammissione che il duplice delitto fu compiuto a Pennisi, sconosciuto al momento del muovente dell'omicidio legato comunque a contrasti interni a Canlaudani, forse per una grossa partita di droga non pagata, ma certamente per interessi economici.